del video come sarebbe non va il volume non me lo dite davvero o no o no davvero non va il volume del video ma non no no non mi dire ho rotto un video ma non è vero cioè letteralmente c'è scritto tieni premuto il salto e voi siete ma non è vero ma mi avete fatto spaventare ma ma era uno scherzo ma a me va mi avete trollato ma io lo sento benissimo dai era un troll cioè non si fanno queste cose anche a me si era rotto ma poi va e no perché funziona l'ho aperto adesso funziona benissimo può essere che all'inizio non funzionasse adesso va ma prima no ma ti credo ma perché youtube guarda che a volte gli piglia male cioè anche a twitch ogni tanto gli piglia male non mettiamo le competizioni tra di loro che poi si mettono a piangere però effettivamente ogni tanto gli piglia male no no vi credo vi credo perché lo so che non è uno scherzo a volte ma è colpa sua è colpa sua perché all'inizio sicuramente stava caricando le cose però adesso funziona se l'avete guardato che non si sentiva qualcosa adesso si sente benissimo l'ho aperto funziona a me sentite non so cosa dire è incredibile ci si sente tutti ci si sente quindi andatelo a vedere se quando l'avete aperto non funzionava adesso funziona bene comunque io non ho toccato niente si è aggiustato da somma perché era giusto youtube che gli è preso un attimo quei 5 minuti di cagarella da cellulare non si sentiva ma sicuramente se lo vai a vedere adesso funziona benissimo allora come va eh ho portato a casa i miei gatti dall'intervento ma poi ora non mi vogliono più bene cioè praticamente li hai fatti sterilizzare da quello che ho capito può essere no beh non ti pare che non ti vogliono più bene ti vogliono bene lo stesso sicuramente dopo quell'intervento sono sicuramente sono un po storditi quello sicuro però si riprendono dopo qualche giorno anche meno insomma te tranquillo oggi mi hanno preso in giro perché sono bassa e ho gli occhiali cosa posso fare gli puoi dire che dal tuo punto di vista e con i tuoi occhiali vedi che sono degli imbecilli gli dici così e gli fai rimanere male gli fai rimanere male e lo dico io è finita l'epidemia non è finita l'epidemia c'è ancora qualcosa da raccontare in quella storia la vedrete la settimana prossima quindi stay tuned anche se so che l'episodio di oggi è stato un po commovente però oh eh sono belle anche quelle emozioni eh lo sapete che a me piace raccontare tutti i generi di storie a volte sono storie divertenti a volte sono storie paurose a volte sono storie commoventi anzi vi dirò la verità era da un po di tempo che non faceva una bella storia strappa lacrime secondo me da un certo punto di vista ci poteva anche stare no so che è bello far ridere no però per far ridere bene bisogna anche ogni tanto far piangere così quando fai ridere viene apprezzato di più secondo secondo me ditemi voi poi eh io pianto eh vabbè ragazzi è la potenza del racconto è la potenza del racconto e sono storie storie ci sono storie di tutti i tipi nella vita ci sono storie che finiscono bene ci sono storie che non finiscono bene a volte bisogna raccontare le cose così come sono e a volte non sono non finiscono bene però settimana prossima ci sarà dell'altro da dire quindi eh restate in in attesa di settimana prossima sto male perché ho fatto incazzare il mio amico eh mi dispiace beh chiedi scusa se hai sbagliato qualcosa però non ti preoccupare che ogni tanto in amico ieri venuta una ragazza ucraina nella nostra classe dolcissima l'abbiamo regalato evidenziatore quaderni gomme e per parlare con lei usiamo google traduttore si chiama diana bravi mi fa piacere questa integrazione ragazzi e ne hanno bisogno perché immaginate l'orrore di scappare dalla propria dalla propria terra dal proprio paese a volte lasciando indietro la famiglia quindi bisogna avere dare tutto quello che si può cercare di essere accoglienti al massimo non so fare aritmetica ma chissene ma non ti impore non ti deve interessare non eccelli nell'aritmetica sicuramente il tuo campo è qualcos'altro magari sarai bravo in italiano oppure ti piacerà la storia le lingue l'inglese ci sono tante cose che puoi saper fare non è che devi per forza saper fare bene l'aritmetica magari non ti servirà mai nella vita se deciderai di intraprendere un altro percorso quindi non ti fare cerca di impegnarti però se non è il tuo pane quotidiano non fartene un cruccio non ti preoccupare troppo non riesco a conquistare la ragazza qualche consiglio laionico è devi metterti in mostra però devi farlo con nonchalance capito senza ostentare niente però per esempio metti caso faccio l'esempio del pallone come l'altra volta sai magari se devi giocare a palla a pallone a calcio ti fai trovare magari un pallone in un corridoio quando c'è lei e fai vedere fai un trick così però non è che lo fai davanti a lei tu fai lo fai che lei ti guardi ma scaltro capito senza essere proprio diretto diretto e ti fai notare e poi procedi per la tua strada senza guardarla capito devi fare devi fare un po' devi farti un po' desiderare anche no mi sembra così l'idea migliore faccio schifo a scuola voglio migliorare ma non ci riesco ma abbi pazienza vedrai che se ti impegni i risultati arrivano non devi avere l'ossessione di dover raggiungere subito il risultato migliore non ti devi preoccupare troppo la scuola ragazzi è importante però è più importante che voi siate felici con voi stessi specialmente all'età in cui si va a scuola è importantissimo stare bene quindi non permettete che la scuola i risultati scolastici soprattutto vi rovinino la giornata io sono sempre molto severo con la scuola perché a volte vedo che molti di voi soffrono per delle cose che poi a lungo periodo tutti riguardi indietro io non ho mai sofferto per i voti di scuola grazie a dio non ho mai avuto a volte ho avuto tante insufficienze ma non le ho mai prese troppo sul serio però riguardo indietro ci ripenso dico pensa se fossi stato male per quei voti che oggi che cosa con neanche me li ricordo che voti ma ovviamente non me li ricordo ma chi se li ricorda i voti che ha preso a scuola cioè sono cose che dopo un po' ti dimentichi e non importano più niente quindi tu studiavi o apprendevi dalle lezioni apprendevo molto dalle lezioni cercavo di stare un po' più attento a scuola in modo in classe in modo da poi a casa avere la vita più facile infatti non facevo mai compiti venivo cazziato perché non facevo i compiti però comunque non mi serviva farli perché avevo già capito le cose a scuola finché mi interessavano e poi dopo quando si è arrivati a una certa che nella matematica hanno iniziato a buttare in mezzo le lettere e i numeri sopra i numeri dei numeri tutti incasinati pazzeschi le funzioni del no allora lì mi sono rotto le balle non ho più ascoltato non era il mio non era il mio che dire Anna buonasera ciattolotola buonasera anche a te la Ionico tu apprendevi a scuola o studiavi a casa? possiamo stendere un velo pietoso sulla cosa? nessuna delle due sei un cattivo esempio sono estremamente un cattivo esempio vabbè però anche tu la scuola l'hai finita quindi l'importante è quello sì sì esatto cioè io ero quella che arrivava tipo all'ultimo cercava di imparare tutto ma alla fine imparava solo il minimo indispensabile ecco bravo mio papà dice che sono grassa e se mi vedo allo specchio non mi vedo bella è brutto che te lo dica posso capire perché magari dipende come lo dice perché magari lo cioè magari lo prendi male ma te lo sta dicendo in un altro modo? aspetta potrebbe essere che te lo sta dicendo per mille motivi buoni e in mille modi anche che potresti interpretare però se tu la stai vedendo in questo modo se tu non la stai prendendo come come uno scherzo alla leggera ma ti fa rimanere male dovrebbe rendersene conto a non farlo questo è sicuro eh no questo è poco ma sicuro cioè nel senso pure a me a volte lo dice tipo che ne so mi dice ciccia guarda che ti vedo che magari sei un po' così stai bene quello è un conto se invece ti dicono oh guarda che sei grassa allora dicono guardati te scusa no guardati te però comunque non va bene ecco insomma a volte i genitori sbagliano però tu non ti devi far minare l'autostima neanche da tuo padre o da tua madre devi essere comunque indipendente sicuro devi stare bene con te stessi perché quello che ti dicono gli altri alla fine chiunque sia non ha così tanta importanza sono sempre le opinioni degli altri esatto Anna? tu sei bravo perché ti sai esprimere io ho i concetti ma non li so esprimere bene eh no vedi perché gli sgravoni tu ogni tanto vuoi dire una cosa e te ne esce un'altra eh lo so cosa vogliamo fare so che non la so dire però capito la vorresti dire ma ti esce diversa sì 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 è delicato infatti ti devi stare attenta perché ultimamente nel mondo di oggi se tu dici una cosa e la dici sbagliata poi c'è qualcuno che si arrabbia capito eh lo so come ieri che io ho detto che le amicizie tra ragazze sono sempre finiscono sempre male e tu e no non vi siete arrabbiati però si scherzava Anna tu sei arrabbiata no assolutamente cioè non dire nulla no no ok cosa ne pensi dei sacerdoti ma io sono un po' controcorrente su sta cosa secondo me ci sono tanti sacerdoti che sono bravi si fanno un sacco di battutace sui sacerdoti io ne ho conosciuto diversi perché ehm ultimamente non vado più in chiesa però da ragazzino ci andavo spesso e ho sempre conosciuto sono persone ho conosciuto persone che si prodigavano ad aiutare le persone povere del quartiere avevano un punto di riferimento questa cosa la posso dire questa cosa so come rispondere io in materia che anche io ho conosciuto un sacco di sacerdoti molto bravi però ce ne sono alcuni che sono un po' più all'antica ma si sicuramente mentre ce ne sono altri che nonostante magari sono un po' più avanti con l'età cercano di stare al passo cercano di non lo so cercano di farti piacere le cose e invece altri che tipo te impongono che magari non gli piace mancare loro sicuramente sicuramente poi ci sono anche dei mascalzoni come cioè alla fine sono persone umane quindi ci sono anche dei mascalzoni però non è giusto fare tutta l'erba un fascio in questa cosa non mi addentro io no non mi addentro neanche io però sicuramente ce ne sono anche tanti buoni io ne ho conosciuto tanti buoni adesso vedo anche su tiktok ce ne sono alcuni che fanno i tiktok pazzi sgravati super moderni insomma boh fa piacere fanno sorridere che esperienza ho lanciato un pezzo di ma quanti problemi avete scusa ho lanciato un pezzo di carta alla professione perché l'hai fatto non è una buona idea perché non lo dovevi fare non è una bella cosa mi sento inutile un peso per i miei amici ma no ma perché le dite queste cose ma ragazzi ma quando mai a parte che in qualche situazione siamo tutti un peso cioè in generale quando Anna rompe le balle è un peso sì ma è normale quando io rompo le balle divento un peso sì però è tutta una questione di dare avere no ci sono situazioni in cui magari uno trascina l'altro e anche in amicizia è così non è grave sono sicuro che ci sono situazioni in cui anche i tuoi amici si sentono così e sei tu invece che tiri avanti la la baracca insomma ognuno brilla per qualcosa di diverso cioè quello lì che trascina tutto il gruppo quello che si adegua quello che è birbante quello che è simpatico quello che invece fa la battuta quello che è affidabile quello che viene soltanto se lo chiami oggi ho ribaltato la scrivania della mia vabbè siete dei criminali comunque ma scusa ma se tu apri il video di Roblox lo senti l'audio aprilo da telefono per cortesia ma sì perché ragazzi si sente io lo sento non so cosa è successo però vi giuro si sente aprilo dal telefono è un attimo che c'è un cadoccio non sia mai sposto un amico chi sposto sposto da te perché tu sei in gamba ma quanto è bello ma io mi sento di brutto in gamba oggi bravo che bello mi piace ok è finita è finita l'essere in gamba non sei più è durato poco no perché mi sono sentito un attimo in successione Anna si sente Roblox? un attimo sto sentito tutte le pubblicità aspetta è bene perché poi prima si sentiva da te quindi c'è no ma si sente si sente solo che magari dove controllo anch'io no non c'è bisogno ci guardiamo tutti il video di Roblox adesso io lo sento ok allora era solo all'inizio ragazzi sicuramente siccome l'abbiamo registrato oggi ci tenevo a mettervelo oggi perché questa modalità è bellissima e quindi ve l'ho messo subito e probabilmente per i primi minuti non si sentiva poi riflessandolo sicuramente ma ora va tutto bene che bello funziona tutto perfettamente grazie Anna è strecato ma prego prego è un piacere che bello oggi no davvero ma oggi bravo strecato bravo oggi è molto bello che tra l'altro domani abbiamo dobbiamo domani registrare un'altra nuova serie che una esce domenica quest'altra invece esce la settimana prossima nuova serie bellissima quindi mi raccomando stai tuned sul canale e quindi state pronti in questo periodo la vedrete qualche giorno è bene spara fuori roba nuova ogni settimana ma quando non è così ma sempre come sei gentile adesso ti manderò un pelo pubblico per riuscire non fai un cavolo e poi l'improvviso facciamo questa prova di resistenza quando magari uno non è abituato tipo se me ci mettevano a me morivo dopo due metri secondo me raga ma io guarda io mi devo trattenere voi sapete che io mi devo trattenere quando facciamo le live e parliamo di scuola perché io sulla scuola ho delle opinioni molto molto severe che però non posso dire capito perché poi dopo qualcuno le clipperebbe e capito tutto poi strappato dal contesto diventa peggio però sappiate che non è un ambiente perfetto però no la scuola è tutt'altro che perfetta e pensate che la scuola italiana non è neanche tra le peggiori cioè comunque per quanto sia rognosa in alcuni aspetti però non è tra le peggiori e pensate in altre parti del mondo poi boh non lo so per molti di voi so che l'ora di educazione fisica è la più bella e lo posso capire dipende dal professor a volte si gioca fa un'attività io mi impegnavo tanto io non la facevo quasi mi sedevo da un lato nel mio caso non no proprio avevo sei in educazione fisica perché non ne avevo proprio voglia ma è perché era guarda non posso dire io non posso dire non posso dire non posso dire guarda nel mio caso non si faceva niente ma perché nella palestra nella stessa ora c'erano almeno sette classi e non potevi farlo eh lo so ma io se ci penso ad alcuni piaceva anche molto perché boh essendo molto stressante cioè tipo se ti metti a correre secondo me ti aiuta o non lo so almeno fare attività fisica ma Geric mi ha scritto che da telefono lui non sente ancora il video di Roblox eh lo sentivo Geric ciao a tutti tu non senti il video di Roblox eh no ma noi si eh no ma solo da telefono da computer si ma noi anche da telefono non lo sentiamo eh ma cioè non è la prima volta che capita cioè in base a quale tipo di tele cioè cosa vuol dire che telefono non lo so sei Android o iOS tu Android tu tre io iPhone però ho controllato ricontrollo subito eh ma se hai il magari non si sente da Android ma che cazzata è mai questa scusa cosa vuol dire perché noi tutti con iOS lo sentiamo tutti c'è qualcun altro che Android Alex no Alex no paga forse paga no neanche amici ciao hai telefono Android no tua mamma no si ce l'ho ce l'ho vai a vedere un po' ok ci metto un po' però a cercare aspetta forse ho letto che qualcuno diceva io Android e lo sento boh Geri che non lo so magari dipende dipende se hai l'applicazione YouTube aggiornata o meno potrebbe essere sai potrebbe essere comunque non vi preoccupate pian piano si aggiorna iPhone lo so che funziona boh a preoccupare questa cosa eh sì ma a me non è la prima volta che capitava davvero sì sì ah ma sempre con altri video miei no 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 anche altri altri video io ti confermo che dal mio Android si sente dai Jake fai schifo ma cos'è il telefono dei Flintstones a eh